Spettacolare novità in arrivo al Grande Fratello. Nella puntata di lunedì 4 novembre Shaila sarà chiamata da Alfonso Signorini e riceverà una comunicazione importantissima. A svelare tutto in anticipo è stata la conduttrice Federica Panicucci, nel corso della trasmissione Mattino 5. Ha voluto dire in anteprima ciò che succederà tra qualche ora nella casa più spiata d'Italia. Dunque, il pubblico del Grande Fratello deve prepararsi ad un evento molto emozionante con Shaila assoluta protagonista. Anche lei faticherà non poco a trattenere le lacrime, nel momento in cui si renderà conto di quello che starà per vivere. Un regalo del reality show, che la geffina apprezzerà tantissimo dopo giorni intensi e ricchi di polemiche. Ma il Grande Fratello non sarà solo Shaila ad essere al centro dell'attenzione. La Panicucci ha fatto sapere che come ospite di Signorini ci sarà la collega di Letta Leotta, che il 5 novembre esordirà su Canale 5 col ritorno della Talpa. Confermata anche l'uscita temporanea di Tommaso dal GF per recarsi al Gran Hermano, la versione spagnola del reality, al fine di incontrare Maika. Ci sarà anche l'arrivo di Alfonso, ex concorrente di Temptation Island, che potrà ricontrare l'ex partner Federica, già presente nel cast da sette giorni. Ma tornando a Shaila, il Grande Fratello sta per permetterle l'incontro col suo amato papà, che non vede da un mese e mezzo come ricordato dal sito Blasting News, ovvero dall'inizio della trasmissione Mediaset. E Shaila non potrà che commuoversi davanti alla vista del padre. C'è curiosità per capire che tipo di messaggio le porterà il genitore, dopo che lei si è avvicinata molto a Lorenzo subendo attacchi ripetuti dagli altri concorrenti. E voi cosa ne pensate?